Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. Una delle foto risale a dieci anni fa, e dimostra che l'imprenditore bresciano è una vecchia conoscenza della showgirl argentina. Inutile dire che il post è stato sommerso da una valanga di commenti, tra felicitazioni e critiche, e Belen ha deciso di rispondere ad alcuni di loro. Tra i commenti pubblicati sotto al post che sembra ufficializzare la storia tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, ce n'è uno di una donna che ha espresso il suo apprezzamento, ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo. Belen ha replicato, sai che mi trovi d'accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi. Ma, ovviamente, non sono mancati gli insulti. Una donna, ad esempio, ha scritto, sei patetica, e Belen ha risposto spiegandole il significato della parola. Un'altra utente, invece, ha scritto, sorella caratiamo e ti stimo ma qua noi comuni mortali e aspettiamo una delusione d'amore per perdere quei 100 g tu manco tiempere lacrim già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa. Un commento chiaramente ironico che, però, la showgirl argentina non ha gradito, taci se non vive con me. Probabilmente Belen ha frainteso il significato delle parole della donna, interpretandole come un'accusa di non aver sofferto abbastanza dopo la nuova rottura con Stefano De Martino.